bentornati sul mio canale prima di vedere cosa andremo a creare oggi vi ricordo di iscrivervi che è completamente gratuito semplicemente ci teremo in contatto per le novità che andrò a caricare allora per quanto riguarda il progetto di oggi avremo bisogno del metro un paio di forbici e dell'uncinetto 3 a mezzo invece per quanto riguarda il filato abbiamo questo bellissimo bluette del filato ambeglia sempre nel colore unito abbiamo già visto un altro colore quindi vedete che ha degli a degli toni molto accesi molto belli questo gomitolo è da 100 grammi a il 40 per cento di top acrilico e 60 per cento di poliamide in 100 grammi ci sono ben 440 metri quindi veramente una grandissima resa uncinetto 2 2 a mezzo invece si può utilizzare anche con uncinetto più grande come vedete io sto utilizzando il 3 a mezzo perché bisogna sempre tenere in considerazione i consigli che ci danno come casa produttisce però dobbiamo anche adattare l'uncinetto al progetto che andremo a fare vediamo subito di cosa si tratta per quanto riguarda la necessità di materiale vi consiglio anche dei marca punti perché sono molto utili soprattutto in questo caso vi faccio subito la grafica del progetto che andremo a fare che è una maglia una maglia top down e da un sacco di tempo che non c'è sul mio canale soprattutto credo che un modello con le indicazioni a voce proprio non ci sia prima di tutto iniziamo a creare un giro collo leggermente alto di circa tre centimetri che andremo a lavorare di andata di ritorno a punto basso in costa quindi a un punto elastico io per sviluppare questo giro collo ho bisogno di 60 righe adesso ve lo insegno anche mano a mano quindi andrò a lavorare 60 righe in punto basso in costa che mi sviluppano circa i centimetri necessari perché passi dalla testa quindi se voi casomai cambiate filato tenete presente che deve essere sui 56 58 centimetri ok io utilizzando un uncinetto più grande quindi il punto è molto aperto per quanto mi riguarda 60 righe mi sviluppa più che sufficiente poi queste righe 60 gli ho detratte dal fatto che quando mi sono messa il lavoro attorno alla testa non mi stingeva di conseguenza mi sono detta è più che sufficiente perché io possa indossare la maglia però se non mi bastavano 60 righe ma ne avevo bisogno di 70 si facevano 70 righe in più e poi si andavano a distribuire in questo schema qui quindi il mio 60 è dato dai centimetri che mi sono stati sufficienti perché io possa indossare la maglia e li ho suddivisi in questa maniera intanto ho preso i 60 e ho distribuito quattro punti che sono quelli degli aumenti dimenticavo vi servono anche quattro marca punti è meglio averli dopodiché siccome andrò a fare un progetto che non rispetta la mia taglia ma voglio una maglia maxi che mi avvolga molto caldamente ho distribuito 10 sulle maniche e 18 e 18 sul 18 sul davanti e sul dietro e sul davanti voi vi chiederete va bene ma come hai fatto a tirare fuori questi numeri semplicemente ho fatto questo conto preso i 60 meno 4 quindi 1 2 3 e 4 aumenti mi dà 56 il 56 lo diviso per 4 perché ci sono quattro laterali delle nostre due maniche dietro e davanti e mi è venuto fuori 14 è solo una coincidenza che ci sia il numero pari se c'è la virgola arrotondate mi ripeto forse l'ho già detto un sacco di volte ma ve lo dico per le donne mettere qualche punto su davanti perché abbiamo il senno non guasta per quanto riguarda gli uomini mettere qualche punto sul di dietro non guasta perché abbiamo le spalle leggermente più larghe di conseguenza questo vi anticipo anche che un pro un progetto abbastanza onnisexta voi decidere alla fine quando lo andrò a indossare se possa essere piacevole anche per un uovo quindi io ho 14 allora sono andata a fare questo ho fatto 14 meno 4 punti di solito va a togliere un paio di centimetri mi è venuto fuori 10 e 14 più 4 quindi questi che ho tolto da qui è 18 ed ecco che ho distribuito i miei per quanto riguarda il mio rettangolo voi direte ma signor 70 fa niente andrete a fare 70 meno 4 e sono 66 poi andiamo a dividere 66 per 4 ve lo faccio subito e così avete insomma il risultato finale 66 diviso 4 mi viene 16.5 mi viene 16,5 quindi 16 meno 4 e vendo fuori 12 quindi io decido le maniche che hai decido le maniche è quello che mi avanza di punti le andrò a distribuire sul davanti e sul dietro facilmente fate questi conti sempre di solito la proporzione è più che giusta è normale che se avete un seno molto abbondante io vi consiglio di mettere tutto quello che vi è in più sul davanti rispetto che sulla parte dietro però oltre a essere un progetto unisex è anche un progetto dove non segue molto la taglia perché noi avremo un aumento di 5 maglie alte quindi la maglia sarà molto larga quando andremo a riprendere le maniche non saranno le maniche leggermente a trapezio ok quindi già predisposte per farle ma saranno belle dritte a 90 quindi di conseguenza avremo una maglia molto comoda da indossare ok prendiamo il filo l'uncinetto e ci mettiamo all'opera ho già preparato il filo ho fatto il nodino e andiamo a fare 6 catenelle quindi 1 2 3 4 5 e 6 aggiungo la settima che non conteggio mai ma mi serve per iniziare il lavoro quindi rientro in quella precedente semplicemente vado a fare un punto basso io ho preferito il giro collo non tanto alto però a questo punto decidete voi quanto lo volete altro potete farlo anche molto grande e piegarlo praticamente fare il rivoltino a questo punto faccio anche l'ultimo punto basso prendo un po di filo faccio il punto catenella giro il lavoro questo punto catenella non lo considero vado nel primo punto utile quindi questo e vado a fare dei punti bassi in costa per quanto mi riguarda mi sono servite 60 righe di punto basso in costa per sviluppare i centimetri necessari perché io possa indossare la maglia che non mi stringa sulla testa se cambi filo o uncinetto ti consiglio di guardare sempre che questo giro collo ti passi dalla testa finita la riga facciamo un punto catenella girate lo saltiamo quindi non viene lavorato andiamo a fare dei punti bassi di ritorno quindi semplicemente altri sei punti bassi mi ripeto fate questo lavoro per tutti i centimetri necessari perché quando lo andiamo a chiudere in cerchio mi vi possa passare dalla testa io vado avanti ci troviamo a chiudere ho lavorato per 60 righe e se vado a misurare adesso il lavoro mi risulta 35 centimetri però vi ricordo che elastico questo se lo allungo in realtà non riesco nella grafica però fidatevi che se lo allungo supera di gran lunga e 59 60 centimetri questo vuol dire che è uno di quei punti che tu lo allarghi per indossarlo però si ristringe quindi il giro collo è bello compatto dopo 60 righe andiamo a chiudere questa striscia di lavoro allora io l'ho fatta alta mi ripeto sei punti ma potete farla 10 20 30 e girarla insomma il classico dolce vita adesso pieghiamo la strisciolina creata entrate sempre nella costa dietro prendete anche il primo punto che in realtà stiamo facendo la cucitura sulle catenelle e andate a fare un punto bassissimo non stringete mi raccomando questo passaggio un altro punto bassissimo e così via adesso preparatevi 4 marca punti che andiamo anche a dividere direttamente il lavoro facciamo anche l'ultimo adesso facciamo un punto catenella ed è finito guardate questo il giro collo andiamo a fare un giro di maglia alta dove andremo a riprendere le righe lavorate quindi una due tre catenelle questa è la prima maglia alta caricate l'uncinetto entrate in ogni riga rispettiva quindi una due cui è un po largo quindi vi consiglio di prendere il punto intero uno tre quattro cinque sei sette otto 9 li ricontiamo due quattro sei otto dieci perché non ho conteggiato questa scusatemi questa che la undicesima la andiamo a marcare voi direte ma perché perché stiamo già dividendo per il prossimo passaggio cioè per la prossima riga dove andremo a fare gli aumenti facciamo finta che ho iniziato qui nell'angolo che in realtà dovrei questa è la prima maglia quindi due quattro sei otto dieci ho fatto questa porzione qui l'uno qui che sarebbe l'undicesimo punto lo vado a marcare perché io qui avrò l'aumento ok adesso iniziamo da capo ne dobbiamo fare 18 caricate e andate a fare uno un punto 2 17 18 questo che il 19 quindi lui lo vado subito a marcare in pratica qui dove ci sono questi marca ponti si andranno a creare i nostri raglan perché saranno quattro magari faccio un attimo lo schema di come sarà quindi marca ponti rosa e corrisponde a questo uno qui andiamo a fare l'altra porzione delle maniche che sono dieci punti quindi carico e vado a fare uno 2 9 e 10 abbiamo fatto la porzione a questo punto il prossimo punto e quello che andremo a marcare non ci resta che fare questa porzione cui e marcare l'ultimo che in realtà è anche il primo poteva essere quindi vado a lavorare 18 punti questi sono 17 punti 18 è il diciannovesimo lo prendiamo qui sulla cucitura non entro qua perché è troppo larga quindi vado a prendere anche un po della maglia bassissima ok sembra un po più stretto 1 2 e 3 mi vado a chiudere qui sulla prima maglia alta lavorata adesso vado a marcare questa maglia perché è quella dove ci sarà l'aumento non è bellissima questa chiusura ma almeno so che regia perché qui attaccarmi solo su un figlio non mi va guardate anche come sono andata a sistemare la mia grafica in praticamente questi qui queste righe qua che si vanno a creare con l'aumento si chiamano raglan praticamente è la distanza che ci serve dal collo ad andare fin sotto la mano sotto il braccio scusate dove c'è la scella perché facciamo faccia sì che la maglia non tiri ok che non ci tiri sotto e non ci venga piccola per quanto riguarda l'aumento sarà sempre cinque maglie alte per qualsiasi taglia infatti è una taglia è una maglia top down senza la taglia ben precisa vi limitate a un'altra cosa vi limitate ai giri da fare per quanto riguarda la metà della circonferenza io la mia circonferenza e sui 44 46 cm io andrò a lavorare per circa 50 cm iniziamo a lavorare la porzione delle maniche mi rendo conto perché praticamente ho poco spazio tra un marca punti e l'altro vi farò vedere anche come iniziare la riga senza che si veda molto prima di tutto andiamo a fare 2 catenelle caricate l'uncinetto e rientrate sempre nello stesso punto di base e andiamo a fare la maglia alta queste due che sembrano due maglie alte vengono considerate come punto unico quando lo andremo a chiudere venire indete conto del perché adesso andiamo avanti andiamo a lavorare semplicemente dei punti alti fino ad arrivare al marca punti sono nella prossimità del marca ponti vado a lavorare tutti i punti disponibili fino ad allora e qua è il punto marcato cosa devo fare vado a fare semplicemente cinque maglie alte quindi una due tre quattro e cinque sembra un ventaglio anzi in realtà lo è a differenza dei soliti aumenti 2 maglie alte catenelle 2 maglie alte questo viene molto più coperto vado a marcare quella in mezzo quindi la terza fatta adesso mi ritrovo sulla parte della schiena o sul davanti decidete voi dove volete iniziare chiudere righe mi rendo conto del perché perché ho più distanza tra un marca ponte e l'altra quindi vado a lavorare semplicemente delle maglie altre tutti i punti disponibili ci ritroviamo nella prossimità del marca punti rosa vado a lavorare anche questo punto che mi manca adesso vado semplicemente a fare il mio aumento creato da una due tre 4 e 5 punti alti spostate marca punti per la prossima riga 12 nel terzo vado a fare la porzione delle maniche arrivo qui proprio qui dove c'è marca punti fatto c'è l'aumento e poi lavoro la parte del davanti e mi ritrovo qua dove devo chiudere mi ritrovo qui che ho fatto l'ultimo aumento e mi vado a chiudere non qui sulla catenella iniziale che ho fatto ma mi chiudo sulla maglia alta quindi questa catenella la ignoro mi serve giusto per riempire lo spazio come vedete non si capisce neanche adesso inizio la prossima riga semplicemente due catenelle caricate rientro alla base di queste due catenelle vado a fare la maglia alta poi lavoro tutti i punti disponibili di conseguenza lavoro anche i punti rispetto al marca punti i due dell'aumento adesso vi faccio vedere io mi sono già portata avanti con la maglietta poi ve la farò vedere appena riesco ad arrivare l'aumento e così capite cosa intendo dire adesso questi vedete fanno parte dell'aumento semplicemente le andate a lavorare normalmente quando arrivate qui che c'è il marca punti andate a fare semplicemente l'aumento da 5 punti alti 1 2 3 4 e 5 togliete il marca punti lo spostate nella prossima riga 1 2 3 nel terzo punto ok quindi vi voglio già far vedere come la mia maglia sta iniziando a prendere forma vedete già si sono delineati gli angoli perché l'aumento formato da cinque punti è importante adesso vi faccio vedere già il mio progetto perché io mi ero portata avanti ho avuto necessità di alzare un attimo la camera vedete questo era il lavoro andava a lavorare in tondo questa parte dietro l'ho piegato ed ecco il mio risultato non fa niente se si creano queste onde perché veramente il lavoro è molto compatto e molto ben pulito è normale allora il mio raglan va sui 22 centimetri adesso ve lo dico subito sì sui 22 centimetri ok è per quanto riguarda la larghezza quindi metà circonferenza va a 48 però è un lavoro all'uncinetto sapete che anche molto elastico quindi volevo una maglia molto comoda a questo punto riprendiamo l'uncinetto ci rimettiamo qui dovevamo finito e andiamo a chiuderci ok ci chiudiamo semplicemente unendo questi due angoli quindi smettiamo di aumentare chiudiamo questi angoli e andiamo a creare i scatti di una manica la prima torniamo sulla parte dietro chiudiamo anche questi due quindi semplicemente si smette di aumentare e si crea anche la seconda manica che è un lavoro molto molto facile prima di iniziare la chiusura vi volevo far notare come la chiusura delle dei giri insomma delle righe è fantastica è veramente invisibile ok ve la faccio notare non so se la vedete è questa qui dopo questo passaggio di chiusura avete anche la possibilità di tagliare il filo e di andare a iniziare a lavorare sotto il braccio di conseguenza questa riga la potete spostare anche lì però vi ricordo che stiamo lavorando in tondo quindi non avranno mai delle maglie alte dritte saranno comunque sempre leggermente oblique io vado avanti ci ritroviamo qui al primo marca punti sono arrivata vicino al marca punti vado a fare la maglia alta io qui sono già arrivata alle misure che desideravo di conseguenza mi limito a caricare l'uncinetto entro qua nel marca punti lascio questa porzione indietro e vado a prendere semplicemente la prossima porzione questo mi permette di andare semplicemente a unire prendete il filo ci passate in meso e andate a fare una maglia alta ok è normale che qui se non siete arrivati alle vostre misure potete fare anche delle catenelle in che modo adesso vi faccio vedere semplicemente andate a lavorare la maglia alta poi andate a fare una due tre quattro insomma quante catenelle avete necessità entrate qui dove c'è il marca punti andate a fare la maglia alta queste catenelle più le maglie alte come vedete vi da circa quattro centimetri in più ok normale che nella prossima riga qui si va a lavorare sulle catenelle e quando si fanno le maniche si riprende tutto il giro però diventa un lavoro molto largo per quanto riguarda me quindi io disco e torno alla prima opzione chiudo direttamente semplicemente entro prendo o anche come ho fatto prima semplicemente e più vado a chiudere ok adesso continuo per la parte dietro faccio tutti i punti alti sulla parte dietro arrivo qui vado a unire in questa maniera continuo la riga e mi vado a chiudere qui dove ho iniziato il primo punto io ho proseguito il lavoro come vi avevo detto adesso vi faccio vedere un po cosa ho fatto prima di tutto vedete qui mi sono fermata nel chiudere ad aprire la riga e ho tagliato il filo e ho iniziato a lavorare il resto del corpo della maglia qui sotto la manica vedete la particolarità di questa maglia è che tutta lavorata in tondo di conseguenza abbiamo sempre le maglie alte sul davanti sia per quanto riguarda il corpo della maglia sia per quanto riguarda la manica che ho fatto la seconda l'andremo a fare insieme allora io ho lavorato per 56 righe e mi risulta 56 centimetri anche perché ho fatto il bordo inferiore ho caricato le stesse catenele che avevo qui sul girocolo che comunque andremo a rifinire l'ultima manica quindi è uguale identico adesso vi faccio vedere guardate l'ho rifinita uguale identico quindi questo motivo lo troviamo dappertutto conclude sia le maniche sia la maglia sia l'inizio ok poi io rispetto alla mia taglia ho quasi 10 centimetri in più quindi io ho quasi sviluppo 49 centimetri ok e anche il giro delle maniche non rispecchiano la mia taglia perché sono molto larghe comunque quando vado a indossarla lo noterete meglio questo voleva essere un progetto quasi a taglia unica però c'è da dire che quando noi finiamo di lavorare tutto il reglan e mettiamo il metro per capire se abbiamo avuto la nostra circonferenza sempre che il corpo sia proporzionato qui non abbiamo un seno abbondante perché se caso mai fosse così vi consiglio sul davanti di mettere qualche punto in più proprio qui quando andiamo a fare la divisione invece se questo progetto è maschile quindi per un uomo vi consiglio sulla parte dietro di mettere qualche punto in più adesso c'è la variante dove voi potete lasciare la chiusura delle righe sul davanti oppure semplicemente girate la maglia e preferite mantenere il davanti molto pulito ok perché non c'è un davanti indietro per quanto riguarda il mio progetto siccome ho i punti uguali identici sono andata a quindi a lavorare il corpo della manica l'ho finito poi ho ricominzato semplicemente da qui da sotto il braccio a lavorare sempre in tondo infatti vi faccio notare anche la chiusura delle righe vedete questa ok quindi semplicemente ho lavorato come pericolpo della manica anche della maglia anche le maniche allora essendo loro molto larghe ogni sei righe sono andata a fare due diminuzioni ok quindi questa è la prima 1 2 3 4 5 qui in questa riga c'è una diminuzione infatti eccola qui non dovete farla farle nello stesso punto cioè mi spiego non dovete andare a diminuire sempre sotto nella parte sotto tipo sotto la scena iniziare sempre da quella parte no ma le distribuzioni le distribuite lungo tutta la larghezza della manica quindi 1 2 3 4 5 questa è la sesta ho fatto la diminuzione guardatela qui ok così facendo la nostra manica diminuisce in un modo molto molto grazioso oltre a essere una maglia comoda larga ok anche le maniche sono larghe sono comode ma sono anche lunghe lo noterete perché sono molto molto avvolgenti quindi quando la indosso lo noterete meglio questi sono delle spiegazioni mie dei dettagli per farvi capire come ho fatto a farla a modo mio è anche così avvolgente però se voi mi dite guarda preferisco avere le maniche più piccoline preferisco averle più corte eccetera è una decisione vostra sicuramente bisognerebbe già qui nelle prime due righe a far grandi diminuzioni rispetto alla taglia della maglia ok poi ci sono altri metodi che mano a mano magari nel tempo lo vedremo intanto riprendete il filo l'uncinetto e andiamo iniziare la seconda manica mi ritrovo qui sotto il braccio dove abbiamo unito i due angoli questo è l'aumento questo è l'altro aumento e cui abbiamo unito però vedete che sono distanti quindi se vado a fare delle maglie alte mi rimane questo spazietto qua che non è carino da vedere allora cosa facciamo facciamo una specie di diminuzione ok unendoli e avvicinandoli di più quindi prendo il filo faccio 2 catenelle carico entro qua dove abbiamo unito prendo il filo faccio una mesa maglia alta entro anche dall'altra parte nell'altro angolo scusate sempre caricandolo prima carico un'altra mesa maglia alta e chiudo tutto insieme quindi nella prossima riga tutte queste tre verano considerati un punto unico adesso semplicemente carico l'uncinetto ok semplicemente questo e vado a fare delle maglie alte nei punti già predisposti di base come vedete sono tutti predisposti perché questo era il tratto della manica dove noi andavamo a lavorare ok finché arriviamo qui che ci chiudiamo la prima riga qui per chi vuole avere subito delle maniche leggermente più strette vi consiglio in questa porzione qua ok di fare subito delle diminuzioni poche però non esagerate perché dopo non sono belle da vedere ma per quanto mi riguarda il modello che io mi ho immaginato un modello molto large molto comodo e non deve essere accentuare il corpo molto comunque nell'indosso alla fine vi farò vedere cosa intendeva adesso io continuo di lavorare semplicemente dei punti alti già sui punti alti predisposti ci vediamo alla chiusura della prima riga andiamo a concludere la prima rega insieme quindi il lavoro anche quest'ultimo punto disponibile e qui mi ricordi ricordate che ho iniziato a unire questi punti che in realtà lo considero come punto unico quindi entro qua nella chiusura e vado a fare una maglia bassissima vi consiglio di prendere un marca punti da mettere qui così non fate confusione e sapete che dopo cinque righe lavorate nella sesta avete da fare le due diminuzioni io adesso andrò a fare queste cinque righe ci ritroviamo nella sesta intanto vi faccio vedere come si riavvia una riga che uguale identico come per il corpo della maglia solo che qui invece due catenelle ne aggiungete tre perché non voglio che vi tiri la manica la manica deve essere comoda quindi caricate entrate lo stesso punto di base e fate una maglia alta adesso lavorate punto su punto normalmente quando chiudete la riga è normale che questa non la considerate andate semplicemente nella prima maglia lavorata ok ci ritroviamo dopo la quinta riga ho lavorato per cinque righe guardate una due tre quattro cinque e questa è la sesta mi sono fermata qua perché vado subito a fare una diminuzione qui e l'altra la seconda della stessa riga perché saranno due per riga sempre la farò da questa parte nella prossima farò sempre cinque righe poi sarà un'altra riga con due diminuzioni andrò a fare una subito qui e una da quella parte quindi la mia manica praticamente sarà costante nel diminuire come faccio a diminuire semplicemente è il classico punto carico prendo tengo su e faccio metà di una maglia alta carico prendo la seconda la tengo metà di una seconda maglia alta e chiudo tutto insieme queste sono le diminuzioni da fare quindi ho detto lavorate cinque righe nella sesta diminuite cinque righe sesta diminuite ho lavorato per 55 righe qui dove dette marca punti e l'ultima riga in cui ho fatto la mia diminuzione e la manica risulta essere larga in questa in questa misura adesso semplicemente andiamo a fare l'ultima riga che è quella che ci serve per andare dopo a creare il polsino con la lavorazione in verticale caricate l'uncinetto dopo aver fatto il primo punto ok andate semplicemente a fare tante diminuzioni quindi metà di una maglia alta entrate metà di un'altra maglia alta chiudiamo insieme caricate metà di una maglia alta caricate metà di un'altra maglia alta e andiamo a chiudere tutto insieme ok questo è il lavoro da fare per la riga 56 adesso io continuo ci ritroviamo per fare anche il polsino vado a chiudere l'ultima riga maglia alta con una maglia bassissima poi vado a fare 1 2 3 4 5 catenelle che ci servono è più una per andare a iniziare il lavoro entro ancora precedente e semplicemente vado a fare dei punti bassi praticamente andiamo a creare delle righe verticali di punto basso in costa che ci rende il polsino molto molto elastico e semplicemente anche molto più stretto rispetto al risultato finale che vedete che si è ristretto parecchio a questo punto qui abbiamo iniziato che ci siamo chiusi vedete che siamo partiti quindi questo lo mettiamo andiamo nel punto successivo facciamo un punto bassissimo tirate leggermente per chiudere questa riga nella prossima riga quindi sempre un altro punto bassissimo camminiamo e per iniziare quindi girate il lavoro allora 1 e 2 li andiamo a saltare 1 e 2 che sono i punti bassissimi andate nel primo punto disponibile entrate nella costa dietro e semplicemente fate dei punti bassi in costa vedete è molto facile sono cinque punti 4 non dimenticate l'ultimo che questo punto catenella per girare il lavoro che non lavorate quindi lo mettete andate nel primo punto disponibile e andate a fare un punto basso in costa poi arrivate qui questo è lavorato vi chiudete nel prossimo disponibile il risultato finale sarà questo adesso io finisco il lavoro ci ritroviamo dove indosso la maglietta e mi dite cosa ne pensate ed eccola qui la mia maglietta indossata e morbida calda e avvolgente vedete che rispetto alla mia taglia che questa c'è un bel po di volume ma l'idea era proprio questa guardate anche le maniche sono larghe vedete però mano a mano si sono ristrette e sono lunghe avvolgenti caldi che ti vuole proprio di stringere questa magliettina ed è facilissima da fare anche veloce perché stiamo utilizzando solo la maglia alta che cresce molto bene soprattutto non ci sono conti da fare non ci sono delle proporzioni da tenere a mente semplicemente iniziamo con un top da che si parte dal colo voi direte però le catenelle le catenelle deve essere la misura tale ok che quando andate a lavorare andate di ritorno la riga la strisciolina vi deve passare dalla testa quindi voi vi tenete a conto semplicemente l'avvio ok delle catenelle poi andate a lavorare andate di ritorno finché questa striscia vi passa dalla testa vedete che stretta la attorno al collo però anche molto 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 elastica dopo aver capito il numero delle righe che vi sono uscite fuori quindi capite quante maglie alte dovete andare a lavorare nel primo giro iniziate subito a dividerli dividete una parte per l'altra per il davanti una per il dietro uguale identica e due per le maniche leggermente più piccoline come proporzioni qui sarebbe anche da dire per quanto riguarda la differenza tra una femmina e un maschio per quanto riguarda la femmina sul davanti avendo noi il seno è meglio mettere qualche catenella in più in questo caso mettere un qualche maglia alta in più e per quanto riguarda i maschi avendo le spalle più larghe meglio metterla sulla parte dietro però ho pensato a un progetto in cui questa necessità non ci sia molto perché questa maglia non rispetta la mia taglia di conseguenza molto più larga è quasi una taglia unica quindi non mi preoccupate semplicemente andate a lavorare quindi la riga del regla molto più lunga rispetto alla vostra taglia vedete la mia taglia dovrebbe essere più o meno in questa maniera tenendo presente anche che l'uncinetto è un po elastico facendo questo voi semplicemente avete una maglia maxi molto caldo molto proporzionata anche a voi di qualsiasi fisico voi siate sia una xxl sia una s perché comunque sia rispetto alla vostra taglia più 10 cm in più o anche 15 decidete voi io mi sono fermata perché è una maglietta normalissima però potete andare avanti e fare una blusa maxi quindi lavorare fin quasi sopra il ginocchio è perfetta per questo periodo perché non si sa mai come vestirsi né troppo caldo né troppo freddo quindi questo è un progetto molto molto consigliato bene vi faccio una giravolta mi piace tanto adesso non mi resta che leggere i vostri commenti e vedere cosa ne pensate e da tanto tempo che non faccio un top down quindi spero che ve lo apprezzate e io leggo i commenti e un bacio alla prossima